ciao ciao oggi noi facciamo la 24 ore challenge in tenda con le tende cose che abbiamo comprato oggi si hai fatto spendere un sacco di soldi si 200 euro 300 si quasi 300 cosa abbiamo preso la tenda il tavolino le sedie la pompa i materassi le luci i materassi allora partiamo montare ok 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 1 2 3 iniziamo lo facciamo nikita non ne sono convintissima forse devo aiutare mango mango non aiuti mango cocchino ciao cocchino fai vedere come sei cresciuto come sei grande diventato allora work in progress come vanno i lavori adesso meglio una bellissima tenda grande questa messa prima stanza che do io giusto a questa quella sarà me è la mensa alla mente la cucina vediamo forza di nikita nikita dai o mamma mia e rosson dai è così difficile avete sbagliato buco adesso va vediamo jasmine e ryan cosa stanno facendo stanno preparando la cucina per loro pigiama party allora state partendo camera da letto vediamo la cucina sta arrivando tutti fare un po di coccolini così bravo così bravo così bravo così bravo mi dispiace io devo fare il materassino dai jasmine fai vedere che femmine sono bravissime dai brava bravissima dai jasmine cosa fai stai facendo stai appendendo le luce quanto spazio avete per dormire allora è morbido qua c'è anche luce visto che jasmine ha già messo dovete accendi poi quella bianca forte si può anche mettere di diversi colori bianca rossa falla forte il tempo ci è partito piccoli dettagli allora era qua da solo un po basta ma va che spumante per bambini non è buono saldi arancia marcita da due mesi fatti e sai che è qua da tre anni siete sicuri di voler dormire questa notte io non ho tantissimo è sempre la solita ci vediamo domani mattina allora ok ciao buonanotte 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 infine l'abbiamo. hai barato era baffi quindi dove di è pelato domito bene aiuto Arancio Allora mi è piaciuto dovermi rintendere Sì Abbiate 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 Abbiate